Ci giocano notizie da Castiglione Fibocchi di diverse persone che sono rimaste senza il medico, con l'uscita De Cobertis vicepresidente del Consiglio regionale, com'è la situazione per le notizie che ha saputo appoggiare? La mancanza è perché il medico è andato in pensione, alcuni, il medico che è subentrato aveva un massimale diverso di 1300 persone assistiti che poteva prendere, sono allo stato attuale rimasti senza, ci risultano perlomeno a noi, rimasti senza medico di base 130 persone che non hanno fatto domanda. Un po' si sono spostati sui medici di Capolona, di Subbiano, lì c'è la casa della salute, quindi c'è anche la possibilità di avere un servizio integrato, la ASL attraverso la regione ha già attivato una zona di carenza, significa che sono attivate tutte le procedure per avere un altro medico di base che speriamo arrivi prestissimo, comunque quelle 130 persone naturalmente si possono rivolgere e prendere nel frattempo medici di Arezzo, insomma delle zone limitrofe. Nessuno è lasciato solo, se ci sono difficoltà poi siamo pronti ad ascoltare.